Tornano piogge e temporali, è stata infatti confermata l'allerta meteo anche per Arezzo. Dalle 12 alle 24 di domenica 22 settembre è stato emanato il codice arancione per rischio temporali forti con cumulati medi di 30 mm e fino a 60-80 mm in occasione delle precipitazioni più intense. Il codice di allerta arancione indica la possibilità di eventi pericolosi e diffusi con probabili danni a strutture e infrastrutture e possibile rischio per la popolazione. L'amministrazione comunale di Arezzo ha dunque invitato i cittadini a prestare la massima attenzione in particolar modo negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nelle zone depresse, a non sostare nelle zone circostanti gli alvi dei corsi d'acqua, a non attraversare con le auto le zone allagate anche solo di pochi centimetri, a mettere in salvo i beni collocati in locali allagabili, a non sostare in cantine e nei locali semi-interrati potenzialmente allagabili. Nell'applicazione Cittadino Informato infine si potranno trovare tutte le indicazioni per un corretto comportamento in caso di eventi meteorologici pericolosi.